buongiorno buona domenica a tutti oggi è una giornata di sole e vado a farmi un giro con degli amici così mangeremo anche qualcosa questo è il mio giardino vedete dietro con le mie palmette ok due minuti sto vedendo ok oggi guardate c'è un sole stupendo guardate il cielo è bellissimo che ieri c'era il vento e pioveva e tutto queste sono le mie notare la mia erba da tagliare questa settimana comunque la taglierò perché devo comunque pulire un po il giardino perché fa schifo il mio arancio c'hanno un profumo stupendo giro 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 è il mio socrate che sta prendendo il sole vedete che bellino che è il mio socratino amori della eccomi di nuovo mi sono tolta la giacca e me la sommessa così via subete non è vero sono grassa come vabbè chi se ne frega non devo dar conto a nessuno io sto bene così la mia dieta perenne sono perennemente a dieta e perennemente non dimagresco è come se non vabbè chi se ne frega si sono proprio carina oggi devo dire che si posso andare adesso sto aspettando loro per per andare vi porto in un posto nuovo oggi un pezzo di strada andiamo in in alto verso il sangue e mangeremo lì qualcosa due sandwich vi farò vedere è chiuso questa è la mia casetta vista da fuori con le mie palme la c'è il mare in fondo oggi è bello invece di qua si va alla strada e là c'è qualcuno che saluta bonjour aziz dai donne le bonjour a e niente con lui ed ora andremo a mangiare il sangue e domenica dai socrates rimarrà tutto solo sono invidiosa di qualcuno io no proprio per niente vi sto fumando una sigaretta intanto che aspetto guardate i bougainville questi sono i bougainville ce ne sono qua ce ne sono tantissime io no perché detesto i bougainville e mi piacciono tantissimo nei giardini degli altri ma nel mio no per semplice fatto che fanno troppe foglie già non riesco a tenere pulito il giardino figuriamoci ancora con le bougainville vabbè mentre non ti può dire bonjour tra lei ed ora e con lei e aziz andremo a mangiare questo pezzo di strada lo conoscete bene perché è quello che va comunque allo stradone diciamo è una scorciatoia l'immondizia regna sovrana ti vuoi passare qui? ti monti l'altra? io sì ok o là o là io sempre monti quando andavo a lavorare prendevo sempre la stradina qua questa la conosco molto bene o se no prendevo l'altra che è un pochino più in salita ma boh dai non sono ancora proprio da buttare non sono ancora proprio vecchia vecchia cos'è? cesso io non so perché hanno un paese terribilmente bello è bellissimo sto paese ma boh l'immondizia l'immondizia questo è il panorama che si vede dalla strada io sono montata da lì da lì in fondo e se no devo fare tutto il giro ma qua faccio prima guardate il mare oggi è stupendo e adesso ci incamminiamo verso sangue oggi hanno aperto il caffè questo è un caffè poi ci incamminiamo e ci incamminiamo e ci incamminiamo allora questo è l'hotel Lella Meriam che naturalmente è chiuso perché non c'è gente questo invece di là lì c'è il mare questo era l'ex Diana adesso non mi ricordo più come si chiama allora è rimasto Diana non mi sono sbagliata e là in fondo quello che vedete là in fondo è il Vinci Oledenstara adesso qua comunque ci sono tre da qua si può dire che cominciano gli hotel perché uno due tre sono qua ah il due sono uno è il sangue uno è qui in basso poi magari vi faccio vedere e buono sono tutti chiusi forse l'Idenstar è l'unico che è aperto perché ci sono dei residenti dentro il anno il fu sia fermato il sangue ah j'ai intenzione che voleva fare per la Covid c'è ma c'è delle cose blabla Allora il Fesepul Questa è l'entrata Questa che vedete davanti a voi è un sottopassaggio che arriva direttamente al mare di questo hotel E lì c'è il Vinci Queste che vedete non sono mimose è una specie di non è anche eucalipto mi devo e poi vi farò sapere comunque non è è una caccia ecco Il Mi sembra che la mimosa fa parte della famiglia delle acace Invece queste fanno parte della famiglia degli eucalipti Qui si passeggia sempre Anche questa è l'entrata Per andare lì hanno fatto tutte le Però è bello eh Anche dentro è tutto disegnato Molto carino Questo invece è l'Ela Meriant Sempre che fa parte si può dire lì vedete c'è l'entrata comunque dell'hotel per le macchine Qui è un residence Adesso ci sono sti due non posso Comunque C'è l'entrata vedete dell'hotel Hotel e residence Dalla parte Dalla mia destra si può dire Ci sono tutti degli appartamenti Che sono stati venduti Ma aprite l'acqua in bagno e vi esce in cucina Li hanno pagati carissimi Io ho conosciuto Guardatevi bello il colore Ho conosciuto delle persone che hanno comprato Comunque Hanno comprato degli appartamenti E lasciamo perdere Non ce n'è uno che va bene Si sono lamentati tutti E questa è l'entrata dell'Event Star Assomiglia Assomiglia tantissimo la mimosa Tanto tanto Guardate le foglie Vi faccio vedere le foglie Poi non ha il profumo della mimosa Queste sono le foglie Notate È bellissima però come pianta Tornando agli appartamenti qui dentro Anche tirate l'acqua in bagno E esce al piano di sotto in cucina E comunque gli appartamenti A vederli così Sembrano bellissimi Ma è poi in un posto stupendo Questa è l'aloe Queste sono piante di aloe Aziz C'è dell'aloe Questa è la vera aloe Tutto messo qui Dice che in mezzo Mette poi come un bastone Dove fa uscire il fiore Comunque A vederli sono bellini Qua c'è ancora Questo è lo spasaglietto Dove fanno le pizze E c'è una buona pizza qui comunque E noi continuiamo a salire Qui in basso c'è l'Odyssee Vedete un altro hotel Oh il mare oggi è stupendo Bellissimo Questa una volta c'era La discoteca Si poteva giocare a bowling C'era anche una pizzeria Ma boh Non c'è più niente E' anni che non c'è più niente Ma anni Dal 2010 Penso che l'anno Non c'è più niente Qui stiamo arrivando sempre verso il sangue Qua c'era Se parla molto chi l'ha dibuso Ah beh No no Qua anche Notate che anche qui comunque è tutto chiuso Là dietro c'è anche un altro piccolo hotel Ma è tutto chiuso Non c'è più un tubo E' tutto morto Lì Stiamo arrivando C'è un altro hotel Qui c'era una terrazza bellissima Quando sono arrivata Venivo sovente a bere il caffè Perché Guarda che L'hanno fermato L'hanno fermato L'hanno più di l'argento Per mettere L'hanno più di lì C'è una vista magnifica Di là Chiuso Tutto chiuso Qui Ai tempi d'oro C'erano Tutte le boutique Là in fondo Dove vedete C'è l'entrata del sangue Che è un altro hotel Chiuso anche quello Che appunto Per sentito dire Volevano metterci dentro I malati di covid Ma non so come è andata a finire Non ne ho più palida idea Comunque è un mortorio Qui in confronto Agli anni Tanti anni fa Dove venivi Passeggiavi C'erano le boutique Potevi berti Un caffè Fare qualcosa Adesso non si può più fare niente E' morto Tutto morto Va bene Lo stesso Questo E' quello che potete trovare Questo è per ballare La danza del ventre Notate A me qua ci sta Niente Poche parole Cosa ci metto Lì dentro Il gomito Bellissimo colore Oh Per una serata Comunque queste sono Le cose che potete trovare Naturalmente Tutto Arloco Arloco Oh 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 Di fer voir 2-3 choses Si tu Apriè on y va Je passe pour là Pour là Pour là Questo Quello che potete trovare Questa Un po' tirato Queste sono Dove mettete dentro Le 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 candele Questo è Il doromedario Matto Vedete e per turisti queste sono le pentole della scusa sentite in fondo è la preghiera anche qui mettete dentro la ci mettete dentro dell'olio sotto mettete la candela e brucia l'essenza e si può dire non è vero queste le piccole sciscia questa è una sciscia grande come li chiamo io tutti i cazzatelle questi però sono carini devo dire sono carini qua ci sono dei prodotti che vendono qui l'olio di ginseng che non sapete che cosa c'è dentro comunque dai ecco queste sono le come si dice le essenze le essenze che vengono messe dentro quei però c'è un buon profumo vi faccio questo è una soluzione di gelsomino questo è all'arancio e poi ci sono varie l'olio di menta 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 l'argilla per le maschere abbiamo fatto vi ho fatto vedere un pioggiatto queste sono le rose del deserto anche qui erano tutte tutte boutique per i turisti certo che il covid dell'economia tunisina già loro gli hanno dato una buona una buona botta ma col covid hanno preso ancora peggio ma boh i quad che non c'è nessuno oh dai il te fa du bien marcher taxi non c'è mio ok va 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 tu ne tiens la table ma l'ombre moitié moitié guarda j'ai mai coupé vas-y va va c'è la résidence ecco tono klaxone on nous dit bonjour on dit bonjour con politese même si on ne se rappelle pas qui c'è ahahah 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 tutto chiuso tutto chiuso tutto chiuso ecco lì in fondo lì in fondo è dove andremo a mangiare al lattino qua siamo ancora a sangue tutto sangue qua un ombrello questo è il nostro pranzo io ho un libanè con la shawarma insalata e un po' di maionese sandwich con pollo un po' di cipolla e patate fritte e buon appetito sono ritornata a casa e ci sono guardate le piccole caprette guardate che belle che sono ci hanno sei giorni si giura eh guardate che belline che sono guardate che belle che sono che belle che sono che belle oh 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 le povere oh dai dai guardate che belle guardate che belle che sono che carine oh oh ahahahahha madonna si il pleure la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma la mamma si tu arrivi la mamma la mamma poverino poverino guardate che belli che sono ciao buongiorno cosa vuoi? cosa vuoi? aspetta aspetta sì sì ti do qualcosa aspetta no sta ferma aspetta due secondi che ti do ti do io le dono una meringa e là guardala lì eccola che si mangia una meringa e ora ora è arrivata non ho forlito non ho capito guarda che belli guardate che bella guardate guardate ho 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 potrebbe dare il pane non 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 c'è l'ho ti do del pane adesso entro ti do del pane vi tiro del pane oh guarda il mouton là come il ha le poil il veut faire l'affaire de l'eau regarde il me fait que le doigt eh oui attends ma come è bello ma è bellissimo regarde eh oui ah il a envie vai vai a mangiare vai 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 oh poverino lui oh ma no ma che bellino che è guarda c'è la sua guarda 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 Siamo ritornati a casa, adesso entro, vi dico ancora buona domenica e ci vediamo al più presto e buona sera. Ciao!